Nell'anno che si è appena concluso, un forte segnale di unità e di innovazione è stato lanciato ad una piccola isola incantevole, Procida. La cultura non isola, hanno proclamato. La cultura infatti unisce e moltiplica. È una forza dei campanili, quella di sapere unire e non dividere le energie. Voi raccogliete nel nord del nostro Paese lo stesso testimone di Procida, a conferma dell'unità che rafforza l'Italia. Quando all'Assemblea Costituente si discusse se inserire la promozione della cultura tra i principi fondamentali della nostra Carta, non mancarono dubbi e qualche resistenza. Ma la Repubblica si assunse, sorrendemente, questo impegno, quel compito. E comparve l'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutele il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Mi si è da recente aggiunta la difesa dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi. Il procedere della nostra storia ha dimostrato quanto il peso e il valore della cultura siano divenuti determinanti per il progresso del nostro popolo. Fu una scelta lungimirante, di grande visione. Lo ricordiamo con riconoscenza a 75 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione. La cultura è strettamente connessa con la libertà, di studio, di ricerca, di espressione del proprio pensiero. Ce lo ricorda ancora una volta la Costituzione. L'arte e la scienza sono libere, recita l'articolo 33, mentre l'articolo 21 dispone il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. L'esercizio che Brescia e Bergamo, capitale della cultura, si apprestano a intraprendere è quindi un grande esercizio di libertà. Qui guarderà l'intero Paese. L'auguro che rivolgo a Bergamo e a Brescia, capitale, ai loro cittadini e di essere protagonisti di un nuovo dialogo con l'intera Italia è che guardi all'Europa.